48.000 euro dal Ministero dell'Interno per posizionare in città nuove telecamere di videosorveglianza. Il Comune di Treviso li impiegherà per acquistare 9 nuovi apparecchi che si aggiungeranno ai 135 occhi elettronici già in funzione. Nuove telecamere fisse in Isola Pescheria, Vicolo dei Pescatori e Piazzale della Costituzione, in Largo Portaltini, a Riviera Garibaldi, Piazza delle Istituzioni, Parco Uccio, telecamere orientabili a seconda del bisogno direttamente dalla centrale operativa. Lettori targhe in strada Canizzano e via Sant'Antonino. La scelta ricade in zone che possono essere degradate, che possono essere pericolose, in base anche alle segnalazioni che provengono dai cittadini. E naturalmente i lettori targhe vengono posizionate sulle vie più importanti di accesso e di transito della città perché con i lettori targhe riusciamo a monitorare chi entra e chi esce. Non lettori targhe finalizzati alle multe quindi, ma alla sicurezza urbana. Anche il Comune parteciperà all'investimento. 48 mila euro saranno erogati dal Ministero degli Interni, mentre i rimanenti, cioè 58 mila, saranno stanziati dal Comune. I soldi ci sono già, quindi partiremo al più presto con l'appalto in modo tale che per dicembre, come è previsto dalla normativa, l'appalto deve essere già assegnato e quindi speriamo per i primi mesi, prime settimane del prossimo anno, di averle già in funzione. Ma non ci si fermerà lì. Casugana sta cercando di reperire altre risorse ancora per la videosorveglianza. L'obiettivo dell'amministrazione è di potenziare ulteriormente i sistemi di videosorveglianza da portare soprattutto nei quartieri. La nostra idea, e stiamo cercando fondi proprio in questo senso, è di acquistare anche delle telecamere mobili, in modo tale che possano essere posizionate dove serve. Parlo ad esempio di via Pisa, dove abbiamo già una telecamera fissa, ma dove potremmo anche potenziare con delle telecamere mobili. Dove serve ci saremo. Ecco, questa è l'idea molto semplice, ma sicuramente efficace.